vorrei che questo libro fosse come il racconto di una favola perché la mia vita è stata una favola appunto quasi miracolosa per gli avvenimenti belli e quelli brutti che ne hanno segnato il corso signori buongiorno ben trovati io ho letto le prime quattro righe di un libro che si divora ed è soltanto il primo di tre liana orfei romanzo di una vita vera la regina del circo è qui allora solare signora signora meravigliosa studio meraviglioso questa gente ma che gioia liana orfei che gioia posso fare proprio una cosa proprio istintiva bello bello la regina del circo edito da baldini e castoldi e sono 400 e passa pagine questa meraviglia di ragazza mi ha detto guarda paola è soltanto il primo di tre volumi perché ci vogliono tante pagine per raccontare la tua meravigliosa vita signora regina del circo è così posso dirti una cosa quello che regina del circo nel circo tutte le donne sono regine per cui regina del circo singola mi sembra un'offesa per le altre capito allora non lo dico ragazzi siamo tutte regine io ho lanciato un'imperatrice che la signora orfei non ha non ha raccolto perché perché liana è la generosità la coscienza la grazia la professionalità e la forza tutte e molte altre cose in una donna troppo 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 è tutto vero una donna che arriva dire questo che mi fai piangere ma è però è vero liana che dobbiamo tutti sei dolce sei dolce è vero è questa è una cosa di cui sono sinceramente orgoglioso mi vogliono bene ti vogliono bene magari tante volte non lo so qualche volta sì beh sì insomma abbiamo viviamo degli indizi forse perché questi figli orfei nascono da una coppia meravigliosa una storia da cinema ma da film quelli belli bellissimi paride e la signorina alba furini sì che proprio non aveva quanto siete belli non aveva niente a che spartire col circo anche da un punto di vista familiare come è stato questo incontro di papà e mamma è stato ecco e la favola inizia proprio lì il mio la mia la favola della mia vita inizia con la favola di mia madre mia mamma era andata in vacanza dagli zii in un piccolo paese vicino a como all'omazzo e così si annoiavano poi è andata a vedere un piccolissimo circo che si trovava nei paraggi piccolino avevano una scimmia in totale all'epoca una scimmia in cinque fratelli dividevano una scimmia come eredità come eredità e ma diciamo ma si va questa sera vado a vedere lo spettacolo è andata a vedere questo spettacolo e in questo spettacolo c'era questo pippo questo paride che era un misto tra glare gable e tyron power ecco alto bello abbronzato con le camicie bianche a quello alto sempre innamidate molto fico proprio sai di que e la eporella aveva 18 anni era uscita dal collegio era andata in vacanza dagli zii vede questo è rimasta fulminata il mio papà che era un tom bird fam nel vero senso della parola una aveva tentato anche di buttarsi nel nel fiume per per lui per cui diciamo che non conquistava e loro pensavano così stato un flirt forse del flirt che è durato pochi giorni è venuto fuori un amore così grande che non amore così grande così grande che mia madre che i genitori di mia madre la famiglia di mia madre erano molto molto benestanti si opposero chiaramente vero e mio padre da po di quelli poveri veri proprio quelli poveri 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 quindi una ragazza ben molto benestante un ragazzo molto molto ricca no molto benestanti ragazzo molto povero tutti i due belli lui un po tom bird fam lei invece usciva da un collegio 18 anni e soprattutto il circo meraviglioso è ma l'epoca era una cosa proibita il circo sei anche se tu avevi una un'abitazione una carovana come la chiamiamo noi che bellissima stupenda se la gente vedeva passare la carovana diceva way chiudi le galine che arrivano gli zingari capito perché questo era la mentalità delle allora di allora e invece quella mentalità viene sconfitta perché papà e mamma in maniera un po la renzo e lucia è sì ma c'è un don abbondio fantastico al contrario però al contrario c'è un don abbondio che fa il tifo qua esatto il don abbondio che fa il tifo per loro due capisci lì nasconde lì nasconde nella fuitina che mia mamma dice facciamo la fuitina perché i miei non mi daranno mai la possibilità di sposarti pari cioè giovane ma non scema ecco capiva perfettamente che i suoi genitori e all'epoca poi in particolare oggi come oggi figurati i figli in che anno si sposano aspettate che la rifaccio in che anno si sposarono papà e mamma dunque guarda mio fratello nando è nato nel 34 per cui preoccupatissimi tutti i due terrorizzati perché due anni dopo il matrimonio per cui ci sono nel 32 nel 32 provate ad immaginare nel 32 cosa tutto questo volesse dire è stato un matrimonio meraviglioso scrive l'amore l'anorfei possono non aver mangiato loro ma noi non hanno mai fatto mancare niente noi è l'iana che nasce bella come la luce il 6 gennaio di un anno che non non è possibile che tu abbia questi anni no tesoro ce li ho io sono orgogliosa ma certo che si sappia 1937 è incredibile incredibile io sono la paladina delle over 80 devono seguire me perché noi noi ragazze belle meravigliose ragazze degli over 80 noi siamo una forza incredibile perché la donna è il pensiero più bello di dio la donna è scusa me lo permetti facciano guardando ecco la donna per me per quello che io penso pensando la mia mamma le mie nonne a tutte le mie cugina tutta tutti quanti e vedo ho vissuto con le donne vedevo proprio non che voglio fare il paragone con gli uomini dicendo la donna e super no non c'è una superiorità tra la donna e l'uomo c'è un solo fatto che dio ha fatto la donna con la mano destra e con il suo alito io ho fatto una cosa meravigliosa ha fatto la donna e io voglio che tutte le donne vogliono vorrei voglio che tutte le donne siano orgogliose degli anni che hanno non li devono nascondere signori è nata il 6 gennaio del 1937 fate voi io poco fa in corridoio mi sono appoggiata al muro e sono scesa mi sono l'ho detto solamente che fra due mesi compio 85 anni e mi è svenuta in braccio cosa potevo fare liana orfei ci vediamo tra un attimo tutta la sua storia tutta la sua meravigliosa storia della bambina che nacque con la camicia quell'evento così raro che la levatrice salutò come un fatto eccezionale era soltanto l'inizio di una vita meravigliosa tra poco l'ora solare signori l'imperatrice del circo liana orfei è l'imperatrice me la passi però è è no la regina non ma l'imperatrice splende l'ora solare perché la signora liana orfei è qui con noi grazie ancora grazie infinite allora la nostra eugenia scotti la nostra autrice con la nostra lauretta benardini sono già lì è loro e come sono fortunata io ad avere questi angeli sempre con me mi hanno detto paola le immagini del circo circo se non con le anorfei con chi grazie a tutti sono una donna clown dice orgogliosamente liana è così certo sono una donna clown ancora oggi è l'unica cosa che sono riuscita a riservare della mia carriera circense perché il trapezio penso che la mia giovane età non si faccia più cavallo nemmeno nemmeno i salti mortali per terra per cui clown che è una cosa che mi è sempre piaciuta perché ho iniziato a due anni e mezzo con il mio babbo come si chiamava il tuo personaggio lacrima ma c'era un motivo amore perché mi chiamavo lacrima perché perché la paga di un bambino del circo all'epoca in particolare non esiste allora io la mia paga erano le caramelle che il pubblico tirava in pista quando uscivo col mio babbo no solamente che gli altri figli cari per non dire che cosa degli altri bambini del circo aspettavano che arrivassero le caramelle io intanto dovevo lavorare per cui non potevo correre a prenderle no perché dovevo fare il numero col babbo e loro mi ferirono a fregare le caramelle io piangevo beh vabbè no è meraviglioso allora questo questo è tantissimo altro in questo libro da divorare divorare credetemi è un libro è un libro meraviglioso li hanno fai romanzo di vita vera la regina del circo tutte le donne sono regine però sentite ci sono regine imperatrice non ha risposto per cui io continuo a chiamarla la regina allora ci sono ci sono 31 secondi che raccontano solo in parte in minima parte gli incontri meravigliosi magici della vita di liana orfei guardate i migliori anni della nostra vita i migliori anni della nostra vita svingimi forte che nessuna notte è finita i migliori anni della nostra vita Federico Fellini Gino Landi il bacio più lungo con Marcello Mastroianni Gigi Proietti e tant'altri Gigi Proietti lo dico con un affettuoso orgoglio io l'ho tenuto a battesimo in televisione il primo lavoro che lui ha fatto in televisione è stato il socio il socio però era un lavoro in serio era lui era un attore e basta faceva l'attore e io ero la protagonista e lui era il protagonista maschile e questo l'ho sempre portato come diciamo una specie di corona io ho tenuto a battesimo e ci dobbiamo tanto ringraziare per questo battesimo perché attenzione la signora liana orfei vogliamo dirlo bella come il sole proprio bella papà e mamma l'hanno fatta proprio bella ma bella aiutami di bella dicono a Roma giustamente da quell'amico che poi sarà amico di tutta la tua famiglia il grande Federico Fellini tu vieni notata e vieni portata nel mondo del cinema riluttante è riluttante certo perché per noi del circo un po' indietro diciamo perché oggi le cose sono cambiate noi del circo avevamo tutti quanti una una violento non piccolo proprio una violenta ostilità perché era un ambiente un po' corrotto questo ci avevano detto noi ci credevamo allora io sono andata lì un pochettino e mi è durato anni questo eh questo distacco ecco distacco cioè tu lo facevi ma molto molto attenta a tutto c'era il nemico alle spalle nemico di fianco nemico davanti nemico di dietro capito per cui sempre attenti però Federico no Federico è stato per la mia famiglia per Nando il grande amico mio fratello Nando è stato amico proprio fratello di Federico lui adorava il circo e adorava la mia famiglia anche lui diceva che noi noi la mia famiglia era Alba che lui diceva la mamma Alba telefonava mamma faceva telefonare dalla sua segretaria fantastica come si chiamava mi viene mai in mente dice signor Alba guardi che Federico vuole i tortellini ecco e la mamma diceva sì 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 allora cominciava mollava tutto che la mamma era il grande capo nostro per cui aveva tutto in mano amministrazione e tutto lei era il gran capo proprio e noi eravamo tutti sudditi della mia mamma e Federico quando arrivava Federico la mamma mollava tutto si levava gli anelli si metteva il grembiule cominciava a tirare la sfoglia e si faceva tortellini ed era tortellini per tutta la famiglia per gli amici tutti quanti e lui diceva e ancora oggi la sua nipote la Franceschina Fellini che tra l'altro ha preso molto dello zio è perché ha fatto delle cose favolose assolutamente assolutamente e Franceschina ancora lo dice che noi siamo la sua facciamo parte della sua famiglia lei mi chiama zia da sempre Franceschina l'avrei fatto pure io ringraziando ovviamente diceva che noi facevamo parte della sua eravamo parte della sua famiglia questo fatto di essere parte della sua famiglia questo fatto di arrivare al cinema con lui e questo fatto che poi il cinema ti abbia letteralmente adorata cioè tu hai fatto cose tante e importanti poi arriverà la televisione che ti farà fare cose tante e importanti cioè Liana dove tu arrivi porti la miniera d'oro che sei credo che sia questa la tua caratteristica cioè questo bacio con Marcello Mastroianni di cui lei dirà meravigliosa ragazza a fila piamo è come aver baciato un pezzo di cartone ma non è vero non l'avevo detto in che senso? non è vero non lo avevo detto credimi Paola ci credo a te credo sempre siccome hanno scoperto dopo il Casanova questo è Casanova 70 che questo bacio dove io avevo come tutte le attrici che hanno 94 attrici hanno fatto Casanova 70 avevamo tutte delle piccole parti ben particolari e l'unica protagonista la Virna Lisi lui e la Lisi logicamente e poi noi tutte e questo bacio hanno scoperto quelli del cinema stesso che è stato il bacio più lungo della storia cinematografica italiana con Mastroianni il bacio lunghissimo era la storia della mia parte della mia partecipazione del mio ruolo io ero una domatrice belloccia di un circo che aveva dei leoni feroci veri non finti veri e questo era una sfida che questo circo nel copione logicamente lanciava chi ha il coraggio di baciare la domatrice dentro la gabbia dei leoni e vedi ecco chi ha il coraggio chi ha il coraggio una fila lunga 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 ma Mastroianni doveva farlo perché insomma ecco mi ha fatto uscire che c'ho la propita va bene non ti faccio uscire insomma comunque tu hai mantenuto hai mantenuto il punto abbiamo fatto questo abbiamo ci siamo baciati dico la verità che baciare Mastroianni non era come baciare un cartone come poi in realtà ho detto mannaggia me ma tu volevi significare ma io volevo significare che quando in quel momento avevo cinque leoni arrabbiatissimi alle spalle il domatore non c'era dentro e era fuori che li teneva con la voce e tutto questo mentre noi ci baciavamo Mastroianni di un'incoscienza assoluta di chi non conosce il pericolo perché non conoscendo il pericolo non poteva aver paura almeno credo io conoscendo molto bene il pericolo sapevo a cosa andava incontro che bastava che facessero così erano già addosso a noi cinque il bacio per me non doveva finire più presto possibile questa è la storia di una signora professionista che anche di fronte al bacio cinematografico con Marcello Mastroianni e con cinque gatti cinque leoni in gabbia con loro maschi con loro giustamente disse vabbè io ho fatto la mia parte ha fatto la sua parte in maniera straordinaria tante volte la nostra Liana adesso racconteremo anche di Alberto Sordi di Edoardo De Filippo ma mi piace ricordare gli incontri con i tuoi quattro papi tu sei i miei papi io me li sono sentiti fuori del primo che sono stata in soggezione era il Papa Buono Papa Giovanni XXIII sì all'epoca allora ci siamo avvicinati vedi proprio con paura ma è vero che gli avete portato un cucciolo di leone un cucciolo di leone che rugiva quando ha sentito rugito ho detto ha preso una paura da matti si è alzato dalla sedia papale si è alzato è proprio così allora gli abbiamo detto mio zio Orlando che era il domatore all'epoca ma Santità dicevo guarda è un cucciolo dice sì 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 ma io sto bene con il leone di San Marco meraviglioso giuro parole che sono andate poi in giro per tutti i giornali del mondo quello lì e poi invece la scoperta di ognuno dei papi che ho conosciuto e scoprire le cose belle che loro avevano non era solo la Santità del personaggio ma ho avuto la possibilità di scoprire quanto era differente da come avevo immaginato San Paolo VI esatto era proprio differente io immaginavo un personaggio assoluto invece no era sensibile amava cioè Ambra fece la mia nipotina che poi ha fatto anche lei tanta televisione tanto bella tutte le mie nipoti Ambra gioia tutte sono belle Gloria tutte belle marchio di famiglia ebbene lei che lei era piccinina e lavorava con le colombe bianche mi ricordo il debutto fu davanti a la sua santità e lui meravigliato e incantato da questa visione si era trasfigurato proprio bello dico madonna è proprio differente esattamente il contrario di quello che io pensavo uno Giovanni Paolo II San Giovanni Paolo II e gli acrobati polacchi questa è una storia molto singolare il Papa che adorava gli artisti di strada il Papa che era stato attore il Papa che amava questo mondo fatto di tanto coraggio ogni volta che vai in pista ogni volta che scendi in pista ecco tu facesti fare una cosa molto singolare per Giovanni Paolo II si portammo in Sala Nervi che era bella alta si poteva però non c'era l'aggancio per il cavo di sicurezza chi poteva andare la sua a fare l'aggancio nessuno allora questi artisti polacchi che erano in quel momento stavamo eseguendo a Roma già da tanti anni perché io faccio un festival mondiale del circo che si chiama Golden Circus Festival e viene tutti gli anni fatto a Roma da 36 anni a questa parte cioè non è un giorno ecco Ricordo ecco allora questi artisti internazionali che noi prendevamo per questo concorso erano polacchi per cui figurati in adorazione totale eh sì fecero una cosa che io dopo per poco non li ho stritolati e fatto una bistecchina sai quelle da dare ai gattini hanno debuttato senza cavo di sicurezza un esercizio che io gli avevo tolto dal numero perché era troppo pericoloso dissi guardate siete meravigliosi stupendi fatelo solo per la giuria ma per il pubblico che urlava di paura non fatelo perché era di un pericolo unico l'hanno fatto davanti al papa senza cavo senza niente e il papa cosa faceva? E allora a un certo punto loro fanno questo e dicono basta, 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 basta C'è stato un grande applauso? Mamma, mamma Mi è venuta la sala Nervi proprio in piedi quasi Come quello che noi tributiamo a te, Liana. Ci fermiamo poi soltanto per un attimo, ma avevo citato Alberto Sordi, voi dite fate il salto dai papi ad Alberto Sordi, assolutamente sì, per un episodio che mi ha colpito molto. Voi eravate a Monte Carlo e arriveremo a Papa Francesco, ovviamente, arriviamo tra un istante a Papa Francesco, perdonatemi, voglio tenerlo, per il nostro gran finale con Liana Orfei, eravate in giuria ad una grande serata, un grande festival e tu racconti un gesto di Alberto Sordi molto bello e molto importante. Era così e nessuno lo sapeva. Era così e nessuno lo sapeva. Devo dire cos'era? Sì. Allora Alberto Sordi era quello che se c'era un bambino o anche un adulto, ma in particolare i bambini, è bisognoso. Lui diceva che ti serve? Che gli serve? Allora gli serve andare in America? Questo bambino doveva operarsi in America? Operarsi in America, ci voleva qualcosa come mi sembra 100-150 milioni, qualcosa del genere. Dell'epoca? Milioni, eh? E lui l'ha fatto. E non solo. Dopo che aveva fatto tutto ha detto se ha bisogno dei capottini chiamatemi. Voleva dire che questo bambino per lui è stato. E questo lui non ha fatto per quel bambino. Lui lo faceva per tanti. Solo che proibiva a tutti di dirlo. E noi oggi possiamo saperlo perché Eliana ha deciso di raccontare tutto questo ed è giusto fare così perché è giusto raccontare appunto gli incontri meravigliosi e giusto anche raccontare dietro le quinte di questi incontri. Va bene? D'accordo? Lì c'è un periodo che mi piace tanto, questo lo devo dire nel libro, il periodo della guerra che è stato terribile e invece meraviglioso è stato quando noi eravamo sfollati, io piccolina di sette anni appena guarita, appena alzata dal letto e mio fratellino piccolino otto mesi e mio fratello un po' più grande siamo stati sfollati a Marano sul Panaro. Sì, di cui tu sei cittadino oraria. Ecco, eravamo sfollati lì e siamo diventati le mascotte di questi contadini, pensa all'epoca, da sfamare cinque persone in tempo di guerra, una famiglia intera. Noi abbiamo passato lì da loro ed è stato forse, non dico il periodo più bello della mia vita, ma quello che non dico, piccola com'ero, mi ricordo con le foglioline del quadrifoglio che era lì o là. Ne porti memoria, tu lo scrivi. Tutto mi è rimasto nella memoria. Ecco, e lì c'è molto il periodo della guerra e soprattutto quando abbiamo ricominciato dalla guerra in poi a risorgere, che non avevamo nemmeno il filo per cucire. Allora, noi ci fermiamo, lo so, stiamo mescolando mille cose, mille ricordi, ma è così, quando incontri una ragazza che parte da lì, parte da quella piccola bambina, la piccola clown lacrima, perché i bambini le rubavano le caramelle, la donna che poi incontrerà i papi, la donna che farà grandissimo cinema, farà grandissima televisione, farà e continua a fare grandissimo circo. Tra un istante ci possiamo fermare, sì, vi racconteremo come accarezzare elefanti, leopardi e leoni, che meraviglia, ma leoni, tigri, pantere, oimè, si dice nel mago di Oz, a lei dia tanta tranquillità e anche noi, se lo potessimo fare con lei accanto. Ci ritroviamo tra un attimo, Leanna Orfei, Allora Solare. Senti, ero talmente... Leanna... Scusate! Leanna Orfei, Allora Solare, dopodiché sto zitta! Perdonate! Volevo dire solo questo! No! Ero talmente bruttina, ero talmente bruttina che tutta la mia infanzia, poi fino verso i 7-8 anni, mi chiamavano Brutbell. Brutbell? Ero talmente brutta, ero molto simpatica, da piccolina ero simpatica, dicono, io non me posso ricordare, però ero molto simpatica, ero proprio un pagliaccino, nel vero senso della parola. Ma ero talmente bruttina, ma si vede, guarda che faccia! Ma brutta! Se qualcuno mi porta un paio d'occhiali, facciamo un test, è una brutta bambina questa, no? Scusate, se mi chiamavano Brutbell, un motivo c'era, no? Ma forse perché era una famiglia... Bell perché ero simpatica, brut perché ero brutta! Era una famiglia molto scherzosa che trovate nel romanzo di vita vera di Leanna Orfei, La regina del circo. Questo libro, di semplici 400 e passapagine, che Baldini e Castoldi ha visto bene di editare. Allora, eravamo all'incontro con i papi. Papa Francesco. Papa Francesco. Papa Francesco. È stato il primo papa e rimarrà nella storia, nella nostra c'è già in grande così, figurati, il nostro papa. perché lui ha riconosciuto la prima volta che gli ho portato io la... Ecco, vedi qua, l'inchino che bello, l'inchino che... Ma lui la prima volta, questa era già la terza o la quarta, Sì. Era la terza o la quarta. La prima volta lui ha riconosciuto nella sua omelia, no, no, non nell'omelia, nel suo discorso, ha riconosciuto che la gente del circo porta gioia. Fermatevi, andate in giro per il mondo e fermatevi perché voi portate gioia, portate felicità. Ma quando mai un papa ha detto questo alla gente del circo? E questo è l'incontro, guardatelo, guardatelo, con papa Francesco. Liana Orfei è orgogliosamente circense. Sì. L'idea del circo, tu poco fa dicevi... Eccola qua, guardate, guardate, guardate. E la cosa secondo me bellissima è che anche i pontifici, perché abbiamo sentito la storia di quattro papi, in questo applauso, come posso dire, ritrovano quel bambino, quei bambini, tutti noi arrivati al circo, ritorniamo piccoli. Brava. No? Brava. Forse la grande magia è quella. Certo. Gli animali. ti riconoscono. Sì. Si affezionano. Sì. Ti amano. Ed è naturale per te avere un rapporto. Beh, con questo riuscirei anche io. La tua nonna. Ad essere, riuscirei anche io ad essere brava. Sono la nonna io di lui. È un chihuahua. Chihuahua. feroce come una belva, morde tutti, morde me, morde la sua mamma, morde tutti. Fantastico. Allora, c'è il chihuahua come una belva. Io non sono stata mai, mai morsa dai miei leopardi che ho allevato, due leopardi. Sì. Sono nati, siamo riusciti a toglierli io e il domatore dalla mamma perché li uccideva. Era già la terza cucciolata che uccideva. Gli abbiamo tolto questi due leopardini, erano tre, ma uno l'aveva già ammazzato. Appena partoriti, e io me li sono allevati. fino a otto mesi li ho tenuti con me. Erano altri così. Fanno le fusa come i gatti? Fanno pif, pif, pif. Che detto così sembra tanto facile. Ma, allora, io saluto con un po' di difficoltà la nostra Leanna Orfei perché avrei tanto piacere di tenerla di più con noi. Ricordando, prossimo appuntamento, trentasettesima edizione del Golden Circus a Roma nel periodo natalizio. Natalizio, esatto. Quindi, grandi attrazioni, concorso, concorso che vincerà, il premio sarà per un anno Golden Artist in the World. Saluto e ringrazio Leanna Orfei che vorrei tenere con me per altre tre ore come minimo, ma per questo ci vedremo fuori da qui. non ho detto, non ho raccontato di che cuoca straordinaria sia Leanna Orfei. È una chef di primo ordine, è una donna che ha saputo mettere insieme tutti gli ingredienti della vita nel migliore dei modi. Leggetelo, Leanna Orfei, romanzo di vita vera. Grazie di essere stata con noi, Regina del Circo. Che meraviglia, che meraviglia studio. Che meraviglia, Paola, Paola. Oggi. Paola, che meraviglia. Paola, che meraviglia. L'applauso a Paola, no. No, fermatela. Fermatela, fermatela. Allora, 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 ringraziando la nostra meravigliosa Leanna Orfei. Grazie a tutti.